Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog e registro quello adesso di lunedì perché sono stato mezzo casino, adesso vi racconto Allora, ero a scuola, ho fatto il costo di cucito, abbiamo finito di fare la sacca Sì, una sacca che praticamente stavo progettando da un bel po' E sì, adesso sto giocando un po' a Minecraft, aspettate, vediamo se riesco a farvelo vedere con calma Sì, ok Vabbè, io adesso ho queste cose nell'inventario e niente, praticamente c'è stato il reset Non ho più la casa di prima ma fa niente, tanto così ricomincio da capo e così siamo allo stesso livello e chi se ne frega E niente, io adesso sto progettando un zaino, uno zaino sì, lo sto creando per meglio dire E allora, datemi un secondo, stavo cercando cuoio prima Che sarebbe la pelle delle mucche, dicevo comunque che poi praticamente stavo tornando a casa E mia madre e mio fratello che vanno a una visita medica a Sperdarena Perché mio fratello poi nelle prossime settimane non ci sarà di mattina, sarà un mezzo marasma Però vabbè, io mi accontento sempre Vabbè, nel momento in cui sono tornata io è tornato anche mio fratello Così abbiamo un po', ho un po' giocato e niente di che E poi, a parte quello niente, sono andata a dormire anche abbastanza tardi Perché poi non avevo voglia di andare in stage E poi ho pensato, vabbè, tanto ancora un giorno E poi sono in vacanza, che bello E quindi niente, io adesso vi saluto Spero che il video vi sia piaciuto Se è così lasciate like, iscrivetevi al canale E se volete spargere la voce siete i migliori Tanto non so se lo farete ma nel dubbio non vi obbligo Allora, io adesso vi saluto E scusate se stavo continuando Ma stavo pensando a dove trovare quel cavolo di cuoio Vabbè Io adesso vi saluto e ci vediamo tra poco con il video di martedì C'è quello di oggi Ciao